Un vero e proprio salotto culturale si tiene ogni lunedì fino al 15 maggio del 2023 nella sede dell'Avis, via Principessa di Piemonte al numero civico 16 a Chieti. Si tratta di un ciclo di 22 incontri culturali curato da Aurelio Bigi in collaborazione con il Dipartimento Lettere, Arti e Studi Sociali della Scuola di Studi Umanistici dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Uno sforzo organizzativo che senz'altro la popolazione apprezzerà, afferma il presidente dell'Avis, Tullio Parlante, il quale spiega che oltre alle iniziative nelle piazze e nelle scuole, gli incontri culturali del lunedì vedranno alternarsi medici e specialisti su diversi argomenti medico-scientifici, ma anche docenti universitari, cultori di storia locale, storici dell'arte, avvocati, registi, architetti e cori su argomenti di diverso genere. Siamo ripartiti con le scuole, stiamo lavorando alla programmazione del 23 di dicembre per la chiusura degli eventi del 2022. Partiamo con la grande idea che ha avuto il dottor Aurelio Biggi, il quale ci ha coinvolto in prima persona e noi a braccia aperte, anzi colgo l'occasione per ringraziare il mio direttivo che insieme a me abbiamo accettato di buona l'apertura di questa idea. La pandemia da Covid-19 ha influito sulle donazioni di sangue? Tutto sommato non possiamo lamentarci, facendo sempre riferimento al 2021 come i dati, perché quelli di quest'anno li avremo l'anno prossimo, quindi l'anno scorso una raccolta di 3.221 sacche di sangue su 1.848 donatori effettivi che hanno donato. Quindi diciamo che nonostante il periodo che ha avuto dei grossi problemi all'interno proprio della società stessa, tutto sommato non possiamo lamentarci.